E' morta nell'ospedale di Mantua, Gloria Piedimonte, la nota guapa della trasmissione Disco Ring. L'attrice cantante e showgirl aveva 66 anni ed era ricoverata per complicanze legate al Covid. A dare la notizia della morte è stato il figlio Giovanni Piedimonte. Ha lottato fino alla fine, se ne è andata via senza dolore e con grande dignità, ha detto. Grazie a tutti.